Ciao a tutti! Oggi prepareremo la salsa allo yogurt con erba cipollina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono yogurt greco, olio extravergine di oliva, erba cipollina, aglio, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'erba cipollina. Ed azioniamo i bindi per 5 secondi a velocità 5. Venire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il yogurt, l'olio, il sale e i cipollina. il pepe ed acceniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 la salsa è pronta trasferiamola in un contenitore salsa allo yogurt con erba cipollina si conserva in frigo per tre giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti